Reso noto il bilancio dell'attività della Polizia delle Comunicazioni nel 2018 che in ambito nazionale, soprattutto nella lotta alla pedopornografia online, nell'anno appena concluso ha eseguito 43 arresti e denunciato 532 persone. Dalle complesse attività di prevenzione è scaturita un'assidua attività di monitoraggio della rete che ha riguardato 33.000 siti internet, di cui 2.182 inseriti in blacklist. Le indagini relative al fenomeno dell'adescamento di minori online hanno portato all'arresto di 3 persone e alla denuncia di 136 indagati. Con riferimento alla realtà abruzzese, il compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni di Pescara, coordinato dal vicequestore Elisabetta Narciso, ha continuato a lavorare nell'attività di prevenzione e repressione dei vari fenomeni criminali. In particolare nel 2018 sono state tratti in arresto complessivamente 19 persone. Di queste tre arrestate nell'ambito del contrasto alla pedopornografia online e 15 nell'ambito del contrasto a reati finanziari come la truffa online. Di particolare rilievo è stato poi l'arresto a novembre, operato in collaborazione con le Digos di Teramo e l'Aquila, di un cittadino egiziano autore del reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale e istigazione e apologia per delitti di terrorismo, poiché accusato di essere organico allo Stato islamico. Inoltre denunciate in stato di libertà 245 persone, sequestrati 57 apparati informatici ed effettuati 1940 monitoraggi internet. Nell'ambito poi delle campagne informative finalizzate alla cultura della legalità e alla navigazione sicura su internet personale del compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni di Pescara, ha tenuto numerosi incontri presso le scuole della regione a cui hanno partecipato oltre 4.000 studenti e numerosi genitori e docenti.